la nuova puntata di spacchettamente unboxing dell'accesso a cyber tempesta stavolta lo sponsor sarà card gamer corner che ci ha offerto questi pacchetti a un prezzo veramente stralciato quindi sono molto contento vediamo eccoli qua andiamo su di qua ah questo è il mio profilo sto vedendo ancora comunque tantissime altre carte quindi cercate di venire perché è davvero molto interessante poi come vedete ne sto vedendo anche altrettante guarda di quanti soldi si fanno qui è molto molto bello e nulla quindi adesso faccio vedere qui dobbiamo trovare a parte le star a te che sarà impossibile a trovare questo già me lo già lo metto un panica in in banca come si dice già lo metto in piano porca madonna non so dire comunque c'è angelo del caos da trovare questo è un ottimo con angelo del caso io rifaccio mi rifaccio il box bello è preso vabbè partiamo 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 allora 12 buste da quella sulla destra ma dei filo spacchetti e iniziamo se possiamo trovare le nostre solite tre super rare e il resto è tutto super rare quindi dovrebbe essere la quarta carta in fondo comunque vediamo allora queen queen principessa non si vede scusate queen queen principessa imperiale difensore del zone e me la quetta orgoglio d'oro testa a testa rinforzare e uuuh andiamo subito una super una una secret astralude vizioso non so quanto vale questa probabilmente una merda ma qui andiamo avanti pendulum moon torre del sole della principessa orgoglio d'oro pedale sakitama quindi abbiamo trovato la numero 1 2 3 4 la quinta carta ho trovato questa ho trovato però una merda quindi mi dispiace probabilmente questa è una merda subito una secret così di pacchetto quindi 1 2 3 4 la quinta va giù ok entusiasta orecchio da coniglio un libro amico gioiello un canno su cinale pesca del giorno cinquinto cinete fantasma fangolo ferro mariale contro piolo recinto famole super pesante monaco grande bencari e abbiamo 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 intatta dimorfia e l'ultima è una super rara un'altra drago desiderio questa è una cosa quindi 1 2 3 4 la quinta è la quinta quasi caputo di argigos sonni d'oro nemmaria fusione duplicazione due loro testa a testa sinfonia sul faccolo traccia trappala difensore del sole nemmaria orelere prediciosa abominio arlenchino e abbiamo un'altra super rara nemmaria sognante questo è interessante perché si vende si vende molto bene continuiamo 1 2 3 4 la quinta va di qua cavaliere mossa rinformulazione mannari un sapone super pesante ricicli quinto cinete duplice avatar sagitama il re più luminoso cammini giante punizione spada anima e poi abbiamo un'altra super rara rullo compressore infinico cingoli questa è un'altra merda hanno trovato due merda però andiamo avanti 1 2 3 4 una quinta in fondo andiamo immaginazione mannari un nuovo frontiera come le fatte a fine lì tigre mondo virtuale fantasma fagolo sinfonia sul faccordo bestia nuvola dorata pendente pendulum e poi abbiamo protec 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 codificatore trasmittente in cui questa si vende molto bene dispiace per non aver fatto un plane con le con le carte però vabbè un canto entusiasta duplice estremamente attivo ui amic anko un reame frantumato sono adesso di pesante monaco duplice avatar traccia trappola e poi abbiamo morganite trans troppa tempo rinforzare circuncio cinette chizioni chizuneri cavaliere morsa difensore del sogno il re più luminoso bestia nuvola dorata e poi abbiamo posizione spada anima e samore super pesante prodigio waka usci ora un po di favore necessario una due tre quattro e la quinta in fondo danza mi canco disperse verso sogni d'oro studio del marchiato sinfonia sul faccordo spezza quannami ma castra a castila orgoglio a pedale e adoraria della luna di giugno diciamo che ho trovato due carte nuove ma non le volevo stavore super pesante motocicletta aggancio doppio come te fatto a finire difensore del sogno ferro maiale saggia sei verso pendente pendulum memoria sonnata purred e poi abbiamo baromette la sacra pecona cespuglio bellina questa questa non l'avevamo trovata nell'altro box bellissimo 1 2 3 4 rinforzare chizuneri chizuneri entusiasta vecchio lacconiglio cavaliere morsa prodigioso buoni arlecchino samore super pesante furtivo punizione spada anima orgoglio della pedale a tavoletta e poi abbiamo protec codificatore trasmittente un altro il secondo molto bene questi si vengono andiamo avanti 1 2 3 4 e il quinto va fuori difensore lezione d'immedia duplo espinamento attivo tigre mondopituale fusione complicazione pendolo moon spezzet manadium ferro maiale piodo recinto e poi abbiamo acciugali e e e e e scala soldato crudo alle saturnas molto bene ultimo partito della fila di destra 1 2 3 4 e il quinto va di qua solidoro gemmedia quince di principessa riformazione manadio unilame campo sinfonia sul faccordo pure lì pendente prendono una memoria strada pure lì e poi abbiamo in fondo a la respina aver rivista questa è molto bellina male ma ancora non ricevuto offerta questa partiamo sì sì partiamo col secondo blocco di carte e poi dovremmo trovare un'altra super rara danzo micanko tigre mondopituale quinto di principessa con la frontiera samore subitante furtivo intanto l'amore e poi abbiamo un'altra super rara ghiaccio già da run a egiline questa è tutta fuffa incredibile questo box è totalmente fuffa ho provato un box totalmente fuffa incredibile 1 2 3 4 la quinta si mette dietro samore super pesante cavaliere mosso sogni d'oro chizioni frittizionali spazze farnadio memoria strada pure l'irre più dominosa scaracina e poi abbiamo abscissiare manadio per ora molto male quella micanko gancio doppio fusione duplicazione acciugai doppio posizione sparnadio massaggia sei ben sono refratto quasi un colore e poi abbiamo essere farsi e insegui latte peccato veramente big box fusione duplicazione riformulazione manadio rinforzare sarai sempre pesante acciugai sarai sempre pesante spazze mannale torre dei sogni e poi abbiamo un'altra super rara orgoglio d'oro quello è sbocato da nulla queste sono tutte carte nuove ma penso che non abbiano praticamente valore non ho visto sinceramente qual era il valore dell'altra parte dove volevo lanciare il caos che nemmeno stavolta arrivato dio merda quindi andiamo avanti immaginazione di mandaggio studio del malerchiato ruplex samore super pesante il re più luminoso che è mediante tendolo 1 purrani memoria strada purrani e poi abbiamo samore super pesante comandante scianato ora credo che ci sia solo la sicretà a trovare 1 2 3 4 5 qua attiviamo dopo il quale ragazzo doppio direzione del sogno ferro maiali contro piollo cresciuto spedente perlano acciugai saggia 6 verso e poi abbiamo s forze inseminotte riformulazione vanadium disvalbrum 6 verso danza micanko un canso uccina vettore dei sogni tracci trappola duplice avatar prodigiosa vomini e poi abbiamo un'altra attenzione questa è una ultra rara guida, quem, la virtuosa, una secret, l'altra è secret trovata qui è stato un box veramente buffa che adesso posso aprire tutto perché l'altro è finito sì sì, queste ultime carte non hanno niente di valore quindi questa la metto in fondo, la metto qua oh, aspetta benissimo eh, mi sono rotto qua è finito tutto si fa un dettaglio mi dice qua il gioco guarda, guarda, guarda ma capito niente ragazzi, mi sei rotto qua eh, tiralo così, vai mi sei rotto, ma non c'è la gente, mi ricasca ma non arrivare no, uno, due, tre, quattro e il quinto lo metto qua ragazzi, fate un supporto perché qui ci vogliono i soldi per comprare una steca per favore c'è uno qui sottopagato non sono uno sottopagato diciamo che nessuno vi paga per fare questo si, si ora non vi farò vedere ovviamente la parte delle comuni che tanto sono le stesse e quindi andiamo a vedere subito le super rare trovate abbiamo Drago Desiderio Ruggito Tribirgata e abbiamo un'altra super rara però ah, quindi potevo trovare un'altra ho trovato un'altra merda Samurai Super Pesante Coraggioso Masu Urawo ottimo poi Grand Soffacordo Kolia e Mannadium L'Impavido perfetto quindi come super rare direi che è andata abbastanza discretamente di merda e qui ancora peggio e qui ancora peggio perché le ultra rare trovate sono veramente poca roba poca roba niente di valore e queste due che non hanno molto valore sicuro sicuro perché se no me lo ricordavo andiamo giusto giusto un attimo a vedere Angelo delle Scalze e Pianeta Pacifico erano quelle più importanti abbiamo trovato però già da qui me la ricordo la virtuosa che vale 21 euro quindi ci sta ci sta poi Astralud il Vizioso è qui sotto è qui sotto a 11 euro quindi perfetto queste due vanno vanno abbastanza bene ma non era quello che volevo eh no no il drago a guardia delle 100 milie questo no non l'ho trovato ma ne and un Ray Maert nemmeno il difendatore Farwell nemmeno eh questa questa tutte le super rare sono veramente un troiaio pazzesco quindi va bene così va bene così accettiamolo accettiamolo ok perfetto accettiamolo iniziamo a spacchettare il nostro p***o vabbè vi chiedo scusa ma qui oggi veramente siamo in difficoltà con gli attrezzi non è che ci sia p***o la finisci eh sì sì vi chiedo scusa veramente allora poi iniziamo uno due tre quattro e cinque difendatore del sun enelian dove esprimamente attivo danza mi canco tigre mondo virtuale sinfonia sul faccorro traccia trappola astra castile l'ultima no produciuta uomini l'altra è una oh il bistel aluber bello questa l'avevo ancora trovata meno male la appoggiamo lì ora poi andiamo avanti uno due tre quattro e cinque fusione duplicazione immaginazione mannati ho già visto che c'è una superare sono i drone enelian prima del principessa imperiale ferro maiale intatta di marfia pendente pendulum un reale arrotomato e pari abbiamo samurai superperante corazionale un rasau porca la madonna ma è incredibile cioè tutte le superare che ci sono mi sta dando solo e soltanto la merda è incredibile è incredibile non so cosa sia successo a card gamer corner però vabbè meno male vedete un pezzo stracciato nuova frontiere riformazione mannatium william micanko aggancio doppio acciugai fantasma firewall spezzer mannatium prodice sabonine arbranco e aperitivista finalmente finalmente questo è interessante poi quando qualcuno vorrà farsi dei mazzi quella ha perlomeno un valore sulle 5 euro e ce l'ho già tre 1 2 3 4 5 e giro come l'è fatta a finire lì orgoglio d'oro circuito cinette duplex pienamente attivo il re più luminoso fiammeggiante orgoglio d'oro pedale purerly e poi abbiamo sakitama e cine trollback ok anche questa è la cosa avventura in buono viene ritornata viene ritornata in vendita quindi 1 2 3 4 5 e giro gunkan soshinave tigre mondo virtuale rinforzare nuova frontiera ferro maiale contro piallo recinto intanta dimografia acciugai un reame fantomato e poi abbiamo drago desiderio altra fuffa il drago desiderio 1 2 3 4 e 5 veramente non si sta trovando nulla è una cosa assurda questa quinkere principessa riformazione manadium samuray super pesante samuray super pesante motocicletta samuray super pesante motore a corda orgoglio d'oro sinfonia sul facco a cordo asca astira e poi abbiamo una oh pianeta pacifico calarium finalmente questa è una carta che mi ha fatto riprendere perlomeno i soldi di questo box quindi la mettiamo qua è una quarantina di euro questa è importante finalmente finalmente abbiamo trovato una carta importante 1 2 3 4 e 5 però si si sono queste però io speravo veramente che ci fosse che ci fosse perlomeno il drago il drago quello lì ma non lo troverò nemmeno stavolta il re pelominoso e poi abbiamo cuttial bestia mistica della foresta molto bella anche questa prima volta mi si trovano superare così interessante 4 e 5 gunkan sushinave disalawurum saiberso duplex pienamente attivo unilammikanko gioiello pendilumun pullerly ferro e maiale contro piano recinto sakitama e poi abbiamo angelo vietitore della morte ancora una super rara io vorrei lanciare il caos ma questo tanto non arriverà mai a questo punto va bene così aggancio doppio circuito cinet chizuri chizunerico cipersa rimpio imperiale tracce trappola sinfonia sul faccordo samuel super pesantimone quashka astira e poi abbiamo una super rara storia delle origini labromante questo non mi ricordo il valore non lo so non lo so uno due tre quattro e cinque danza mikanko disalawurum saiberso rocoglio d'oro studio del marchiato pendente pendulomo punizione spada anima saggia seiberso un reale fantonato e poi abbiamo pianzo faccordo coglia samuel super pesante motocicletta entusiasta orecchie come l'hai fatta a finire lì difensore di azione di emlaria curate fantasma firewall samuel super pesante bestia nuvola dorata prodigiosa bobina e poi abbiamo senza rollback uno due tre quattro e cinque un ganasushinabe riformulazione mannario per rinforzare sommi d'oro oppure le torre memoria e il re più luminoso e il visceral alber anche qui ne avevo trovate un altro vediamo poi questo ragazzotto cosa combina quindi abbiamo finito la prima parte con due ultrarare e una secret trovata adesso iniziamo con l'altra che quasi quasi potrei rifare tutta insieme devo dire facciamo così ormai vado di così però te la trovo la secret il resto sarà tutto da vedere immaginazione mannario come l'hai fatta a finire lì nuova frontiera chizuni chizunebi astra castira samuel super pesante monaco benchèi saggia sei verso tracce trappole e poi abbiamo messe forza in seguinotte orgullo della testa a testa con cano pesca disfondatore sei verso danza mi cancro torre dei sogni il re più luminoso fiammeggiante fantasma fireball poi c'è la spada anima e poi abbiamo grazie al faccordo coglia provare anche un trick cosa è successo? allora ormai io andrei dietro con loro entusiati ho già visto cosa c'è come l'hai fatta a finire lì il caduto di agrogis intatta di morpheas pezzo al mannario ma difensore del sogno orgoglio d'oro e poi abbiamo di nuovo orgoglio d'oro quello è sbucato da nulla quella carta non ha valore non lo so non lo so per superare ancora devo verificare devo verificare nuova frontiera immaginazione mannario tigre di moto di cartone fufu sogni d'oro e poi e poi abbiamo del cavaliere costellazione dunque spiegamento attivo fusione duplicazione gancio doppio unito amico gioiello fantasma firewood fufu fufu furtivo molto bello veste nuvola dorata torre visione principessa animale a durare della luna di giugno e cinque andiamo avanti orgoglio d'oro testa a testa fai perso rinforzare kiccione kiccione neoreale frantumato pendolo moon duplice abate e poi abbiamo amore sonata pure attenzione qui abbiamo ancora guida quemla virtuosa incredibile ho trovato un'altra secret la stessa di prima non siamo riusciti a trovare l'angelo del caos neanche stavolta neanche stavolta no valeva 50 euro questo sono 70 euro quindi sono ripresi i soldi però devo riprendermi anche i soldi di quello di prima cioè i soldi me ne sono ripresi si può dire si perché tanto poi le meto la mia maniera però no però però come questi gli aspettavo qualcosa di più da questi mazzi dai l'angelo del caos dopo quattro box che prendo lo voglio cioè deve uscire deve uscire no ma se esce solo questo box qui l'angelo del caos ci sono più virtuosi eh andrei ci ho provato ma questi quattro è un punto e non mi prenderò più se c'è altri sconti e se mi fanno altri sconti li prendo volentieri se no no perché questa è una bella fregatura po' di carità per quello che ho pagato va bene però se devo dire a qualcuno di acquistarli a prezzo pieno non lo fate mai cioè aspettate uno sconto aspettate uno sconto se no queste catte le comprate qua morganite strappa tempo nem l'aria sognante tel cavaliere al tyran orgoglio d'oro carro carry questa è un'altra fuffa che si va a mettere qui madamon l'impavido pedo che pedo che tocchi di vacca trasmittente quindi anche qui abbiamo trovato uno due tre quattro quattro ultrarare come queste più due secret che sono queste ok ora andiamo un attimo a vedere come ora ve lo faccio vedere alla fine cosa ho fatto guido la virtuosa secret questa in italiano filtra in italiano la vendi a 20 euro quindi abbiamo fatto 40 euro di questa carta 40 euro ci stanno poi pianeta pacifico calorum questa per esempio è una carta che sta ascendendo e va sulle 32 euro quindi ci sta poi astralude vizioso è qui dietro anche questa poi per carità ce ne erano di peggio va benissimo e siamo sulle 11 euro quindi facciamo 30 più 10 più 40 sono 40 60 40 più 30 più 40 80 euro con 4 carte secret ho fatto 80 euro e ho ripreso i soldi del box quindi ci siamo non avrò molto utile però intanto ecco perché volevo lui lui sarebbe stato il top perché lui anche trovarlo una volta mi avrebbe fatto fare l'utile sono 50 euro però va bene così nel senso questo non l'avrei mai sperato di trovare anche perché questo non sono non sono starlight era non possibile a trovare a questo le starlight sono una ogni 25 pacchi era difficile ora possiamo vedere quanto possono valere le super rare e poi si chiude allora le super rare tipo samurai super pesante e coraggioso masurawa super rara quindi wow beastial dispater questa per esempio l'abbiamo trovata due volte eh questa per esempio l'abbiamo trovata due volte il beastial no di spater non era questo il beastial alluber è questo quindi aspetto devono trovarlo allora ringo il drago a guardare le 100 mele non ce l'ho ma questo l'ho trovata l'altra volta l'infinitore firewall no di acciaccia da ren run argin eccola questa si 1 euro 1 euro e 50 4 euro vabbè la posso vendere a 5 euro poi orgoglio d'oro carro carry anche questo è poca roba rullo compressore infernici gola o dov'è siamo ecco super pesante anche questi sono fuffa e poi non c'è orgoglio d'oro quello è sbocato dal nulla minchia ho trovato due volte la ultra rara più bassa di valore 50 centesimi che schifo che schifo le ultra rara le avevo viste che erano merda però non compensa quando ho trovato lei guida quemla virtuosa questa questa alla fine questa alla fine qualcosa ci dà accanto è stata venduta subito nel mio profilo due volte quindi questa cosa questa è qualcosa ci dà accanto questa poi ci dà accanto sicuro e anche questa alla fine si è presa va bene a parte queste super rare che potevano essere migliori per il resto le ultra rare per il resto mi accontento grazie a tutti alla prossima